Buongiorno da ETG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea streaming sul nostro sito etvmarche.it, la nostra pagina Facebook, la nostra app di ETV. In primo piano la regione Marche ha la BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, apertura dello stand e subito la regione si presenta con il lancio di un nuovo brand. E in questo primo giorno la declinazione di turismo che dà le Marche è quella della cultura. Vediamo. Le Marche si rifanno un pochettino il look, diciamo così, un nuovo brand, un nuovo claim. Come nasce questo risultato? Anche perché immaginiamo quando si lavora ad un restyling sulla comunicazione in un momento così difficile c'è un grande lavoro dietro, soddisfatti? E qual è l'obiettivo? Io credo che il fatto di avere un nuovo marchio che possa dare impulso ad una nuova stagione. Questo simbolicamente vuole rappresentare la ripartenza delle Marche, una nuova stagione, turisticamente parlando, importante. E speriamo che le Marche possano essere protagoniste nei prossimi mesi, nei prossimi anni, in quello scenario che vede il motore trenante della nostra economia nel turismo. Io sono convinto che le Marche potranno dire la loro perché abbiamo tutte le risorse necessarie, dai borghi al mare, alla cultura, alla religione, alla nuova gastronomia, le colline, alla montagna. Tutto ciò che può servire è che l'offerta variegata possa in qualche modo intercettare tutti quei flussi turistici, non solo di prossimità, ma anche dei paesi stranieri che guardano a noi con interesse. Lei giustamente ha citato Roberto Mancini, il nostro CT che nel 2021 ha fatto godere tutta Italia, ma ce lo teniamo stretti come testimonial. Per restare nella metafora calcistica è consigliere speciale, possiamo dire così, del presidente Acquaroli che è anche assessore al turismo. E allora se Acquaroli è la nostra punta, lei è un pochino il fantasista dietro le linee dinamiche della comunicazione legate al turismo. Ci può stare questa chiave di lettura e soprattutto come si fa gol per questa stagione in arrivo? Questa stagione in arrivo è una stagione che intanto calcisticamente parlando ho sempre giocato in difesa, quindi diciamo di fantasista ho avuto molto poco. Diciamo di poter, io cerco di aiutare il presidente in quelle che sono le politiche del turismo, ma l'ho appena detto, per me il turismo non si ferma alla regione Marche. È un sistema nazionale, è un sistema molto più ampio. Quello che cerco di fare è di coordinare le politiche del territorio marchigiano con le politiche di altre regioni e fare sistema. Soltanto mettendo a sistema tutta la nostra offerta, la nostra proposta si può arrivare a fare gol e arrivare a meta. Poc'anzi abbiamo avuto l'assessore Magoni con il quale il presidente Acquaroli ha fatto un accordo. A proposito di campioni, no? Sì, a proposito della campionessa Lara Magoni, io credo che soltanto facendo squadra possiamo ottenere risultati. Siamo convinti che attraverso la cultura possiamo rilanciare la nostra regione. Lo hanno dimostrato anche le città che sono arrivate appunto a Pesaro come prima e Ascoli è entrata nello slot, come dicevi. Unica regione italiana ad averne due nei dieci finali. Sicuramente, ecco, significa che sono stati gettati dei semi e adesso finalmente raccogliamo i frutti. Quindi finalmente attraverso la cultura riusciamo a far conoscere il nostro territorio. Le Marche alla BIT, una regione che seguiremo e stiamo già seguendo in diretta, con finestre sia il mattino dalle 10 alle 12 e 30 che il pomeriggio dalle 15 alle 17 e 30. In diretta abbiamo avuto anche il ministro del turismo Garavaglia che ha portato il suo saluto istituzionale alle Marche. La regione Marche ha tutto, è una delle poche regioni che hanno tutto e quindi è uno dei biglietti da visita del nostro bel paese. Noi abbiamo un patrimonio enorme e quando c'è un patrimonio così importante hai il dovere di non consumarlo, di farlo crescere e di farlo rendere. E le Marche in quest'ottica sono eccezionali. Cambiamo argomento, ci occupiamo di Covid con i primi dati di giornata. Sono 1789 nuovi positivi con un tasso di positività del 36,7% su 6.077 tamponi. Incidenza in leggero calo rispetto alla giornata di ieri, 910 casi ogni 100.000 abitanti. E' sempre la provincia di Ancona quella con il maggior numero di positivi con 519 casi. Poi Pesaro Urbino, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e 64 casi arrivano da fuori la regione Marche. Sono sempre le fasce tra 25 e 44 anni, tra 45 e 59 anni dove maggiore il numero di non vaccinati, quella in cui il virus continua a contagiare di più. Tra i giovani è la fascia di età tra i 6 e i 10 anni, quella delle scuole elementari. Tanto per intenderci, a far registrare il maggior numero di positivi con 104 casi nella giornata di oggi. La guerra in Ucraina e il tentativo di parlare di pace, di spingere e di lavorare per la pace lo hanno fatto ieri istituzioni e non nella manifestazione marchigiana e regionale a Loreto proprio per la pace. Vediamo. E' importante parlare della pace, è importante la marcia della pace, è importantissima la preghiera della pace, ma non basta parlare, non basta marciare, non basta pregare. Bisogna che cambi il sistema. Parole forti, quelle del delegato pontificio per il santuaglio della Santa Casa e arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dalcin, che ha pregato insieme ai sindaci delle Marche, agli amministratori e ai responsabili delle associazioni arrivati a Loreto per la marcia organizzata dal Consiglio regionale, insieme per dire no alla guerra, ma soprattutto per esprimere vicinanza concreta a chi da questa guerra sta fuggendo. Come spiega il padrone di casa, il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, in rappresentanza dei comuni delle Marche. I comuni sono naturalmente sollecitati, fortemente sollecitati dall'arrivo di tantissime persone, soprattutto donne e bambini che arrivano dall'Ucraina e sono qui profughi. Allora l'impegno è forte, l'impegno è continuo e a mio avviso dobbiamo essere tutti pronti a dare veramente un segnale forte di vicinanza a queste persone che arrivano, accogliendone nel modo migliore, ma concretamente, sia con l'ospitalità, ma anche con azioni concrete e soprattutto dando anche vicinanza forte a questi bambini che non debbono sentirsi isolati in una nazione che magari ancora non conoscono. Serve un cambio di sistema, un cambio di direzione, ha ribadito più volte l'arcivescovo nel suo discorso agli amministratori, ringraziando anche i giornalisti e tutti coloro che sono in prima linea in Ucraina per mostrare al mondo quello che succede affinché non cali l'attenzione sulla guerra. Quello che sta succedendo ci sta chiedendo una conversione, convertire la politica intesa come dominio e soprafazione a una politica del servizio, servizio alle persone, servizio al bene comune, al bene di tutti e non dei gruppi o di parte. Servire la legalità, servire i più deboli. La pagina ora della cronaca con un arresto di un nigeriano che nascondeva a Falconara negli slip 66 ovuli di Ashish venerdì sera. Questo 34enne è stato sorpreso dai carabinieri della tenenza di Falconara con la droga da spacciare nel sottopasso di Villanova. I militari, nell'ambito di un servizio nel quale sono stati identificati e controllati circa 20 persone e lo hanno bloccato mentre si aggirava per i corridoi del sottopassaggio. Stava cercando di cedere la sostanza stupefacente. Ha provato l'uomo a dileguarsi ma questi lo hanno raggiunto in fretta, perquisito e hanno scoperto la droga negli slip. Il 34enne era già stato arrestato e portato in prigione considerando la presenza di 4 condanne per droga inflite nel 2016, 2017, 2019 e 2021. Nonostante il forte vento ma anche il mare mosso nella giornata di oggi, questa mattina, ha traccato al porto di Ancona la MSC Fantasia in ritardo e questo ha reso impossibile la tradizionale cerimonia del Maiden Call. La nave, dopo aver atteso il rada verso le 11, ha ricevuto l'autorizzazione ad entrare in porto dove poi ha ormeggiato alla banchina 26 alle 12.30. I passeggeri della MSC sono potuti scendere a terra per le escursioni. A bordo circa 2000 ospiti. Ad Ancona sono saliti a bordo per la prima crociera circa 100 passeggeri che hanno scelto l'imbarco dalla cittadorica. La MSC Fantasia farà tappa nel capoluogo tutte le domeniche effettuando 22 scali fino al 4 di settembre e di fatto oggi ha dato il via alla stagione croceristica dello scalo del capoluogo marchigiano. Lo sport ora intanto con la Serie C nel girone B. Quello che è successo ieri ad Ancona e Vispesaro. Due pareggi nel finale, due pareggi che vogliono dire play-off matematici è per l'Ancona qualche speranza, anzi è più di una speranza per la Vis. Gioie e dolori nel finale di partita. La Vis acchiappa un punto a Olbia, l'Ancona matelica ne perde due a Siena. Entrambe però hanno di che sorridere. La formazione di Banchini muove la sua classifica aggiungendo un mattoncino nella costruzione verso i play-off. Quella di Colavitto invece conquista la matematica certezza di parteciparvi ai play-off. Manca solo da definire la posizione. Al Franchi i dorici si illudono di fare il colpo grosso dopo un primo tempo in sofferenza perché Delcarro, sempre lui contro il Siena visto che era stato il mattatore nella rimonta dell'andata è sottoporta il primo a scaraventare in rete il vantaggio. Poi l'Ancona matelica spreca qualche chance per chiuderla mentre i padroni di casa rimangono pure in dieci. Nel recupero la beffa, punizione di Cardoselli che si stampa sulla traversa e poi sulla schiena di Avella. Il più lesto è Ardemagni che fa 1-1. Fermata quantomeno l'emorragia di risultati dopo due sconfitte consecutive e dopo 4 KO di fila in trasferta per l'Ancona matelica. In Sardegna la vis va sotto alla mezz'ora e di Ragazzu il gol che manda avanti l'Olbia che poi pochi minuti dopo può anche andare sul doppio vantaggio ma dal dischetto il bomber di casa non è freddo quanto basta e spreca tutto. Secondo tempo con palle gol dall'una e dall'altra parte ma a crederci di più sono i pesaresi che non si arrendono e hanno il merito di agganciare il pari al secondo minuto di recupero con una bellissima conclusione dalla distanza di Marcandella. Due pareggi dal sapore diverso ma un obiettivo finale unico per Ancona matelica e Vispesaro. I play-off. Condannata invece ai play-out la fermana almeno presumibilmente ai play-out per la salvezza la fermana che è stata sconfitta in casa ieri dalla Reggiana 2-1. Nel secondo tempo si apre con la traversa colpita da Lanini su punizione poi il gol di Zamparo che ringrazia Sperotto per l'errore vince il duello con Blondetta e in spaccata supera Ginestra il raddoppio della Reggiana arriva qualche minuto più tardi stacco imperioso di Cremonesi che di testa trova l'incrocio dei pali accorcia le distanze pannitterie a 10 minuti dal termine non cambia nulla però a livello di risultato la fermana scivola al terzo ultimo posto a quota 35 punti ed è lontana 5 lunghezze dalla salvezza e mancano due giornate al termine. Nel pomeriggio di oggi in Serie B l'Ascoli cerca ancora punti per i play-off contro la Reggina mentre invece da celebrare in un certo senso la finale questa sera della città di Falconara Final 8 di Futsal femminile con l'incredibile rimonta e la vittoria 5-4 a punto delle Citizens con questo gol di Marta a 7 centesimi dal suono della sirena battuta la Lazio e quindi questa sera finale che mette in palo la Coppa Italia contro il Real State. Noi siamo in chiusura vi ricordiamo come di consueto che le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito etvmarche.it e sulla nostra pagina Facebook di ATV grazie per l'attenzione l'augurio ovviamente e di una buona giornata e di buon proseguimento di domenica in compagnia dei nostri programmi arrivederci